Un destino crudele, una vita strappata nel fiore della giovinezza in circostanze inaccettabili. Nel momento più doloroso bisogna però avere la forza di trarre una lezione, riflettere sul valore dell'amore, dell'amicizia e della capacità di spendere al meglio il tempo che ci è assegnato. A una settimana dalla scomparsa, il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, dedica parole commoventi a Chiara Papini, la diciannovenne travolta e uccisa mercoledì sera all'incrocio di Corso Matteotti, nel cuore del rione di Castello. Lunedì funerali allo stadio a pochi metri dal luogo del tragico investimento. Come un padre, scrive il sindaco, ho vissuto il dramma dei tuoi familiari e mi è parso di conoscerti da sempre. A maggior ragione quando allo stadio ho toccato con mano cosa possa fare l'amicizia tra giovani e ho capito che nei tuoi brevi anni hai lasciato nei rapporti e nelle azioni una traccia di te. Uno scenario insolito composto con le mascherine, prosegue il sindaco, a ricordarci che stiamo vivendo una pagina lacerante, proprio nel senso dell'interruzione delle relazioni, anche con quella distanza fisica che non a caso abbiamo chiamato sociale. Verrà l'ora del ricordo, aggiunge il sindaco, ma mai quella dell'oblio e le tue ceneri, destinate ai luoghi che tanto amavi, resteranno una ferita aperta nel cuore della città, dove insieme vorremmo che il tempo ci regalasse una dimensione consolatoria. Cercheremo di stare vicino a tuo fratello, ai tuoi genitori, ai tuoi cari, perché ho toccato con mano, pur non conoscendovi, anche quali meravigliosi rapporti avevate che un po' misteriosamente si prolungano nelle persone che hanno beneficiato dei tuoi organi. E per lenire il dolore, conclude il sindaco, non valgono certo una o cento parole, ma solo per chi crede una preghiera per te, Chiara, che nel momento più tragico ha insegnato cosa significhino l'amore, l'amicizia e la capacità di spendere al meglio il tempo che ci ha segnato.